Ciao a tutti ragazzi sono l'idote che finalmente inizio anch'io la mia fantastica avventura su minecraft pocket edition Mi scuso tantissimo ragazzi se martedì non ho potuto pubblicare il mio video ma veramente non ho avuto tempo di registrare Quindi vi dedico questa serie di minecraft pocket edition sulla skyblock map Partiamo subito vediamo subito che siamo praticamente in mezzo a nulla Molti di voi conoscono già la skyblock map eccola qua Siamo esattamente nel nulla e praticamente dobbiamo sperare nel sapling quindi negli arboscelli che cadranno da questa pianta Ma soprattutto come vedete in alto a destra io mi sono ispirato alla captive minecraft E ho aggiunto l'achievement mod quindi hotel in la legna e molto altro la picca i porcellini il pane le mucche L'upgrade per la nostra ascia e molto altro vedete un'infinità di obiettivi pure i diamanti ragazzi Tutti da sbloccare molto bello in questa skyblock su minecraft pocket edition E iniziamo subito perché inizio a scavare perché vediamo che nella cesta abbiamo il bucket con la lava e un blocco di ghiaccio per l'acqua Quindi andiamo subito a creare il nostro cobblestone generator Per mettere vi consiglio per mettere i blocchi a lato visuale in terza persona di modo da non cadere di sotto E andiamo a posizionare qua al di fuori i nostri cubettini esterni Non sempre li prenderà Eccolo qua perfetto così riesco a scavare anche qua E ci siamo oh fantastico ok allora poi ci serve subito allora uno due di lava per uno di acqua qua dopo l'uno di acqua ok eccolo qua La bedrock prendiamo metto via tech perfetto il nostro dirt e andiamo con di là ci mettiamo la lava di qua ci mettiamo il blocco di ghiaccio lo rompiamo E abbiamo il nostro cobblestone generator mettiamo via il bucket ok Allora mi riprendo questo qua che tanto adesso posso fare così Uno due ok e andiamo subito con la nostra legna e speriamo ovviamente negli arboscelli Perfetto getting wood vedete già il primo achievement sbloccato Molto molto bene ok vai scava Perfetto nel frattempo dobbiamo solo sperare Io intanto costruisco subito ok il nostro crafting table ok lo piazzo qua perfetto crafting table creato Ok ci facciamo due ok le mettiamo via perfetto oddio ok time to mine perfetto già sbloccato Bene e andiamo sul nostro cobblestone generator che dovrebbe crearsi proprio lì perfetto così io spacco qua posso piazzarmici anche sopra e andiamo a spaccare tutto Perfetto sì 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 sapling due piantine fantastico che botta di culo bene queste piantine dopo anzi le ripianto subito direi che posso già piantarle Una la pianto qua e l'altra la pianto qua perfetto così dopo mi allargo e ci stiamo anzi no Questa veglia la pianto a fianco tanto E' già cresciuta la pianta che cosa spettacolare che cosa spettacolare mai successa Comunque ragazzi io intanto preferisco fare un bel po' di cobblestone ci vediamo tra un pochetto quando avrò fatto sufficiente cobblestone da permettermi di allargare la piattaforma e dopo andremo avanti Bene dopo aver fatto fuori tutte e due le picche abbiamo ottenuto ben 64 più 34 cubetti e direi che prima di allargarci qua sulla piattaforma Dato che abbiamo già due piante e siamo a posto sono più che sufficienti direi che è giunto il momento prima di allargarsi di qua Perché dopo dovrò andare esattamente sotto alla nostra piattaforma per scavare l'ulteriore dirt che si trova al di sotto vedete di questa piattaforma Dato che ci sono altri due strati che si possono ricavare di modo da allargare ulteriormente di dirt la nostra piattaforma E far sì che possiamo piantare più piantine e dopo insomma farci una piccola farm diciamo così ok Come facciamo ad andare sotto ovviamente allora intanto questi li piazzo qua ok me ne prendo 19 sono più che sufficienti Prendiamo il nostro bucket perfetto ci prendiamo la nostra acqua eccola qua e facciamo esattamente una cascata Perfetto adesso rimettiamo via il bucket nell'andare dentro la cascata dobbiamo riuscire a mettere altri blocchetti esattamente sotto a questo blocco che ho appena aggiunto adesso Di modo da fare un piano sottostante tutta una piattaforma sottostante a quella di nascita e recuperare tutti i nostri pezzettini di dirt Quindi buona fortuna sicuramente morirò tantissime volte allora ci basta solo piazzarci sopra esattamente a questa ok perfetto Perfetto ce l'abbiamo fatta adesso voglio vedere se riesco no no a tornare su è una cosa impossibile su su telefono su cellulare ragazzi E' una cosa impossibile ma comunque teniamo i nostri 9 blocchetti ok i nostri 9 cobblestone Recuperiamo la nostra acqua perfetto la rimettiamo qua così il cobblestone generator è ancora attivo e andiamo esattamente ad allargarci qua sotto Si ne ho messi anche troppi sinceramente comunque ok la ci arriva molto bene ok lì sotto vai mi sa che mi son fregato Boh allora prendiamo ancora la nostra cobblestone perfetto e andiamo qua sotto senza cadere anche se comunque ho visto che anche in modalità difficile Non perdiamo i nostri cobblestone non ho capito il perché ma va molto bene il problema è che adesso ok molto bene ragazzi direi che ci siamo Adesso dobbiamo solo allargarci dato che ci stiamo giusti giusti ci basta solo allargarci in questa direzione Oh che cosa fantastica bene adesso io andrò avanti nella costruzione di questa piattaforma sottostante a quella nativa E ci vediamo tra poco ragazzi quando più o meno avrò finito bene direi che possiamo andare a finire la nostra piattaforma sottostante Vedete infatti che quando ha smesso di piove il nostro cobblestone generator si è riavviato la cascata è sparita E ok e andiamo a finire eccola qua oh che bello la nostra piattaforma sottostante al dirt Così possiamo allargare anche al di sopra io direi che spacco anche queste cobblestone qua che avevo messo all'inizio per allargarmi un peletto Molto bene e andiamo a scavare il nostro dirt Oh che bello finalmente allarghiamo la piattaforma con del dirt Eh ci voleva ci voleva ragazzi La lava oh mio dio la lava Ah la lava no la lava aiuto grande cazzata Copri si spegniti Mio dio ragazzi che 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 cosa stavo facendo Molto bene allora qua sappiamo che c'è la nostra amica lava Quindi non va bucato Ok mamma mia mamma mia Ah l'acqua no l'acqua Ah giusto perché è tutta scavata l'acqua mamma mia Ok 46 dirt recuperato E direi che può Ah qua c'è il cobblestone Ah ok qua è dove mi piazzo io per risalire Quindi questo va tenuto Qua c'è ancora lava lava Bene quindi il dirt che potevamo Anche questo Il dirt che potevamo recuperare No giusto l'abbiamo recuperato tutto Bene abbiamo un'altra piattaforma dove potremo fare un eventuale allevamento di non so cosa Ma vabbè staremo a vedere come riutilizzeremo questa fantastica piattaforma E nel frattempo direi che posso allargarmi qua di sopra Oh che bello Ok adesso ci allarghiamo anche da quest'altra parte Dato che questa piantina deve ancora crescere Io la ripianto qua un po' più distante Oh così sono sicuro che cresce per forza adesso Eh cavoli non è possibile se no Ok e di un altro ci allarghiamo Dato che possiamo permettercelo Perfetto Guardate che roba Avanza di uno che è quello in mezzo Fantastico Perfetto abbiamo anche un dirt in più Adesso direi che vado a fare la nostra fornace e faccio anche lo stone cutter Ok perfetto Oh e li posizioniamo qua Altri achievement sbloccati Questa è una cosa veramente fantastica Per questa puntata è tutto Nel prossimo episodio vedremo come raggiungere esattamente quell'isoletta Sulla quale mi sembra ci sia un cactus Vabbè e quindi dovremmo rifare presumo la stessa cosa da questa parte Quindi una piattaforma sottostante Altrimenti la sabbia perché come sapete tutti i cactus crescono solo sulla sand E di modo che la sabbia non caschi e non vada persa Che così possiamo riposizionarla su quest'altra parte E fare un piccolo allevamento di cactus Se vi è piaciuto questo video come al solito un bel pollicione in su qua sotto Potete iscrivervi al canale Guardate i miei video precedenti E vi aspetto nel prossimo episodio Vedremo come utilizzare al meglio lo stone cutter per raggiungere la prossima isola E ciao a tutti ci vediamo martedì